wiki source è una biblioteca digitale online che raccoglie testi pubblicati in qualsiasi lingua purché nel pubblico dominio oppure rilasciati con una licenza libera come ogni progetto della wiki media foundation wiki source è aperto a tutti e chiunque può collaborare anche in forma anonima in wiki source i testi sono trascritti da una fonte pubblicata e formattati per essere letti comodamente romanzi e racconti saggi e manuali libri di preghiere e manifesti politici canti popolari e poesie favole filastrocche documenti legali e opere scientifiche tese e dissertazioni purché già discusse presso un'istituzione accademica riconosciuta come wikipedia il progetto è suddiviso in base alle diverse lingue in wiki source in inglese vanno inseriti i testi in inglese quelli in francese nella versione francese e così via sono raccolti testi in tutte le lingue anche nelle meno diffuse e nei dialetti purché già editi e liberamente trascrivibili queste condizioni valgono anche per le traduzioni che sono opere derivate non possono dunque essere inseriti testi tradotti non pubblicati e sia il testo che la traduzione devono essere di pubblico dominio o rilasciati con una licenza libera ogni testo in wiki source deve poter essere copiato e utilizzato come base per creare opere derivate anche per scopi commerciali deve dunque essere stato distribuito con una licenza che concede queste libertà oppure devono essere decaduti i diritti d'autore sull'opera sia negli stati uniti dove si trovano nei server di wiki source che nel paese di pubblicazione del testo allo stato attuale in base alla legge americana sono sicuramente di pubblico dominio solo le opere pubblicate prima del 1923 per lo stato italiano invece l'opera è coperta da copyright fino a 70 anni dopo la morte del suo creatore un testo potrebbe dunque essere già di pubblico dominio in italia ma non ancora negli stati uniti e viceversa un testo contemporaneo invece può essere inserito in wiki source solo se l'autore ha autorizzato esplicitamente qualsiasi uso dell'opera anche commerciale l'autore può comunque esigere la concessione delle stesse libertà sulle opere derivate in wiki source chiunque dovrebbe poter revisionare il testo ed è per questo che è ormai prassi l'utilizzo della scansione completa del libro originale nel caso di testi già trascritti altrove è necessario affidarsi solo a fonte attendibili e inserire precisi riferimenti bibliografici i wiki source anni sono amanuenzi dell'era digitale che per passione o altruismo trascrivono i testi liberamente disponibili ogni testo deve essere riportato fedelmente tenendo conto delle prassi di scrittura dell'epoca e delle convenzioni di trascrizione stabilite dalla comunità il percorso di trascrizione comincia con la creazione di una pagina indice che richiama il libro scansionato da commons il progetto fratello di wiki source che raccoglie file multimediali liberi automaticamente vengono generati collegamenti ad ogni singola pagina dell'opera cliccando su un collegamento è possibile visualizzare la scansione del testo e a lato il riquadro in cui viene effettuata la trascrizione spesso non è necessario trascrivere da zero il testo perché la pagina scannerizzata viene elaborata da un software in grado di riconoscere i caratteri l'aspetto grafico delle pagine è uniformato grazie all'uso di modelli che riportano in modo automatico formattazioni o parti ripetitive delle pagine o dei testi una volta completata la trascrizione di tutte le pagine il testo viene assemblato in base alla sua struttura logica ad esempio nei suoi capitoli il testo è così formattato in modo da essere conforme alla strutturazione voluta dall'autore ma anche adattato per la lettura a schermo e la stampa come wikipedia wiki source gestito da un software che consente di creare collegamenti per testuali connettendo fra loro i vari libri e autori della biblioteca ad esempio una citazione o un brano di un saggio può rimandare all'autore o al testo che cita in fondo ad ogni testo si trovano i collegamenti alle categorie che aiutano ad organizzare opere e autori per tipologia provenienza eccetera inoltre ogni testo può essere collegato alle sue traduzioni in altre wiki source alla sua pagina su wikipedia o a qualunque altro progetto wikimedia ogni autore le cui opere sono pubblicate su wiki source ha una pagina dedicata che contiene le sue generalità minime la lista dei testi disponibili per la consultazione ed eventualmente altre informazioni come le opere in cui l'autore è citato o gli autori correlati anche qui sono presenti i collegamenti verso le pagine sull'autore disponibili in altri progetti wikimedia e in altre edizioni linguistiche vanno annoverati infine i portali che offrono percorsi di lettura tra i testi della biblioteca sullo specifico argomento in wiki source come wikipedia ci sono gli amministratori ovvero utenti esperti che hanno la fiducia della comunità e a cui sono stati attivati degli strumenti di gestione del software più avanzati la loro esperienza li rende di fatto dei veri e propri bibliotecari che fanno da tutor agli altri utenti il punto d'incontro dei wiki sorsiani è il bar dove si possono porre domande agli utenti più esperti e avviare nuove discussioni per gestire al meglio ambiti specifici esistono delle pagine dedicate i progetti tematici nella versione italiana di wiki source rappresentano il cuore dell'attività e sono il ritrovo per coloro che sono interessati ad un particolare argomento per indicare lo stato di avanzamento dei lavori su uno specifico testo o una sua parte si usa un sistema suddiviso in cinque tappe fondamentali quando il testo è completo in ogni sua parte formatato correttamente e riletto da due o più utenti usando la fonte cartacea riceve la stelletta che ne attribuisce lo status di edizioni wiki source e per concentrare gli sforzi di più utenti ogni mese vengono scelti uno o più testi da rileggere e correggere insieme con wiki source puoi dunque dimostrare il tuo amore per i libri salvandoli dall'oblio e rendendoli disponibili per chiunque nella rete partecipa wiki source e costruisci anche tu una biblioteca libera grazie a tutti